Ogni settimana, la stazione della città in cui vivo è densa d'inevoluzione. Ogni settimana violentano una donna. Per la mia stazione è giustificata la parola desolata, per la gente che la vive. È un ammasso di sentire alle prime incarnazioni umane, che si abbassa cupo nelle strade adiacenti per lo spaccio di droga e gli scippi. È un perimetro di cinque chilometri lungo i quali spuntano negozi, lontani dalle botteghe gentili, che trascinano bestemmie e turpiloquio. L'unica chiesa è quasi sempre chiusa. Perché? Commento Perché la tua stazione aggrega, come tutti gli ambienti umani, sentire analoghi. Un maggiore sentire adesso è impossibile, perché la coscienza collettiva, che abita la tua stazione, si struttura molto lentamente. In che modo? Attraverso l'interscambio continuo tra le tante basse evoluzioni.